Sono un papà, un papà fortunatissimo, ho due figli meravigliosi, ho un bambino anzi e un bimbo di otto mesi, ma sono fortunato perché grazie al lavoro che faccio, particolarmente flessibile, ho avuto la possibilità di stare accanto ai miei figli sin dai primi giorni di vita, a parte una spalla e ormai è andata, però ho avuto l'occasione di farmi conoscere da loro e di conoscerli a fondo, giorno per giorno, vederti crescere e anche di alleviare la fatica fisica e psicologica alla mia compagna in quei mesi così delicati. Credo sia giusto che tutti i padri possano avere un'occasione del genere perché stare accanto ai propri figli, alla propria famiglia e soprattutto nei primi anni di vita è un'esperienza irripetibile.